Ciao a tutti, vediamo un allenamento stamattina di tre esercizi abbastanza semplici usando una bottiglietta d'acqua per cercare di definire un po' meglio i nostri addominali, quindi lavorare su pancia piatta e maniglie dell'amore. Ok? Tre esercizi semplici abbiamo detto, da ripetere in sequenza e poi da ripetere di nuovo a circuito per 2-3 volte circa. Veloce, in dolore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.